Tommaso Trussardi e Michelle Unziker ancora insieme. Una reunion di coppia, ma solo per un'occasione speciale. Michelle e Tommaso infatti sono stati immortalati insieme durante la festa della piccola Celeste, la figlia di casa Trussardi che ha compiuto sette anni. Ecco tutta la famiglia unita e sorridente, sembra uno dei tanti scatti ai quali ci avevano abituato tempo fa quando erano ancora una coppia felice. Davanti alla torta la coppia festeggia il compleanno di Celeste insieme all'altra figlia, Sole. Lo scatto è stato condiviso da entrambi nelle storie di Instagram. Di fatto la foto è completamente in linea con quanto la Unziker aveva dichiarato qualche giorno fa. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai, veramente, aveva dichiarato in un'intervista al settimanale Chi. Dovremmo essere bravi al salvare il bello per il bene delle bambine, aggiungendo alla fine voglio perdonare me e perdonare lui. Alla prossima Grazie a tutti.